Ciao, benvenuto sul canale. Siamo in autunno inoltrato e dopo un'ottembrata e un inizio di novembrata le temperature stanno pian piano calando ed è arrivato il momento di pensare e decidere dove collocare le nostre piante grasse. Ciao, se ancora non mi conosci io sono Leo e in questo canale parlo di piante e tutto ciò che riguarda la natura. Oggi, come ti dicevo, siamo in autunno inoltrato ed è arrivato il momento di pensare e decidere dove collocare le nostre piante grasse, in modo da essere preparati in caso di un calore pentino delle temperature. Queste chiaramente possono variare da nord a sud Italia, oppure magari puoi vivere in montagna rispetto ad un'altra persona che vive sul livello del mare. Per semplificare il lavoro generalizziamo un po', dandoti delle informazioni comuni. Prima di iniziare a darvi qualche consiglio su come comportarci in inverno con le nostre piante grasse, voglio illustrarvi il motivo per il quale le piante grasse possono essere danneggiate dal freddo e lo voglio fare partendo dalla struttura della pianta grassa. Prendiamo come esempio quest'aloe vera, ma vediamola da vicino. Ecco qui la nostra aloe vera, se sei interessato su come curare e coltivare questa pianta ti lascio il link in descrizione. L'aloe vera è una pianta succulente e per succulente intendiamo le piante che comunemente chiamiamo piante grasse e che al loro interno hanno particolari cellule che assorbono e trattengono acqua, dando questo tipico aspetto alle foglie come dire rigonfio. E per via di questa struttura questo tipo di piante possono andare incontro al congelamento e alla rottura fino a morte della pianta stessa. Possiamo fare un esempio pensando a una bottiglia di vetro piena di acqua messa all'interno di un freezer e sapete già cosa succede. L'acqua all'interno congelandosi aumenterà di volume fino a rompere la bottiglia ed è proprio quello che succede alle nostre piante grasse messe a temperature al di sotto dei zero gradi. In questo video voglio darti dei consigli su come comportarci in inverno con le nostre piante grasse e lo voglio fare step by step andando ad osservare prima la pianta, poi il terriccio, il controllo dell'irrigazione e il luogo migliore dove preservare la nostra pianta. Se hai dubbi o domande scrivimi pure nei commenti, ti risponderò appena possibile. La prima cosa da fare è controllare la nostra pianta, stando attenti alla presenza di muffe o parassiti o semplicemente di foglie secche che andranno eliminate. In caso di malattie è meglio allontanare la pianta da quelle sane in modo da non contagiarle. Lo step successivo è di fondamentale importanza in inverno per le piante grasse ed è dato dal controllo del terriccio e dell'irrigazione. A partire dall'autunno le piante grasse vanno incontro al riposo vegetativo e in questo periodo è opportuno ridurre le irrigazioni portando la pianta ad avere con l'inizio dell'inverno o con l'abbassarsi delle temperature il terriccio asciutto. Per tale motivo è utile spostare le piante che si trovano all'esterno in un posto riparato dal freddo e dalla pioggia. Vediamo adesso dove collocarle. Le piante che fino adesso sono state all'esterno sotto il sole vanno incontro in questo periodo al riposo vegetativo. Con l'abbassarsi delle temperature le piante grasse andranno messe in un posto caldo lontano dal freddo e dalla pioggia. Qui c'è da dire che ci sono alcune piante grasse come i sedum e sempre vivo che resistono benissimo anche al freddo mentre ci sono altre piante grasse che non resistono a temperature al di sotto di 10 gradi per questo andranno messe in un posto con una temperatura al di sopra di 10 gradi. Io per questioni di spazio andrò a mettere le mie piante grasse all'interno di una serra posta all'esterno per questo prenderà il nome di serra fredda. Qui le temperature saranno sicuramente più alte rispetto all'esterno. So benissimo che non farò contente tutte le mie piante grasse ma almeno saranno riparate dal freddo e dalla pioggia. Adesso è arrivato il momento di montare la nostra serra e lo voglio fare insieme a te. Andiamo! 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 Asponso! Il nostro corso gratuito è www.mesmerism.info www.mesmerism.info in nostro corso gratuito è www.mesmerism.info Grazie a tutti. Grazie a tutti. Se il video ti è stato utile lascia un like. Noi ci vediamo la prossima settimana. Ciao!